Andiamo avanti, gli ultimi quattro segni, no? Sì, ripartendo dal segno del Sagittario, giornata molto bella per voi amici del Sagittario, godetevela questa domenica, ecco, voi che amate anche partire, andare lontano, questa invece è una domenica in cui dovreste coltivare le cose vicine, vicine a voi, gli affetti familiari molto importanti, in una giornata soprattutto come questa, il rapporto con il vostro partner, con i vostri figli, insomma, godetevi le cose belle che la vita sa regalarvi in questo momento e concedetevi magari anche qualche strappo alla regola, in fatto di diete, perché no, insomma, se c'è qualcosa che vi ingolosisce, beh, cercate di lasciarvi andare, insomma, l'unico modo per resistere a una tentazione è cedervi, diceva il buon Oscar Wilde.